A tutti i settori, all'Aman, i fugitivi stanno attraversando il perimetro. Occultamente attivo. Sopprime i versati. Controllati i vostri settori. Roger. Occultamente attivo. Occultamente attivo. Occultamente attivo. Cosa succede qui? Merda, merda, sono qui, segnalate! Capo 2-4, il bersaglio è nella zona del ponte 5 delta 6, si richiedono rinforzo in basso! Forezza d'assunale! Mi hai appena reso le cose più difficili. Resisti, dammi un minuto. Merda, cambio di programma. Sicuro di farcela da dove ti trovi? Falla finita, non mi serve una muta del cazzo. Sì, non mi serve una muta del cazzo. Procedi, ci vediamo più avanti, ok? Ricevuto. Ci muoviamo. Nanovisione abilitata. Do un'occhiata, copritemi! Ah, che cazzo! Vado a controllare! Atenzione! Violazione del sessuale, è che il cuore no. Accerchiamo il nemico! Andiamo a stannare! Andiamo! Direi insiniscini! Che cazzo è? Massate subito l'inforzo! Qualcuno mi aiuti! Uah! straight-up! Prende, v installation! Bravo! Avrai i pressioni avversali! Vai! Struzzo! Ah! Oh Dio! Corazzo nessuno! Ah! L'uomo terzo! Ah! Ti accondo il bersaglio! Diamo gli apposso! Sparpagliatevi e trovatelo! Psycho, procedo alla prossima area! Psycho? Sì! Ricevuto! Consegs in Mattia! Sparpagliata! E' un delirio! Non era nulla! Ci penso io! Chi siamo solo noi? Se ci supera, è stato un progetto! Dove arriva? Lo prendiamo! Attenzione! Violazione del settore... Vi hanno toccato! Ho bisogno di aiuto! Fu morta! Le divizioni perimetrali finiscono! Non può superarlo! In posizione! Individuate il vestaglio di eliminazione! Ho bisogno di aiuto! Guarda, dove cazzo arriva? Ti giro intorno! Mi copro io! Sono in cappola! Inganciare! Guarda, dove sei? Uh! siamo anche scarali con un plan di구요 Lo proced state, ho bisogno di aiuto! Batoca! Leframe un cavolo... Lo managgio… Lo mangiare? Prend Referente! a 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 che cos'è? psycho ho finito ci vediamo all'ascensore della torre dove sono i rinforzi? attenzione i cell stanno preparando le torrette tu puoi violarle magari potessi farlo io a 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 via una volta dentro ci incontriamo con i miei hai dei tuoi adesso mi conosci mi è sempre piaciuto il gioco di squadra non vado da nessuna parte finché non mi dai delle risposte si mi ricordo la maggior parte è schiava dei debiti la sel possiede la nostra energia tutta se non puoi pagare le bollette devi lavorare per farlo naturalmente è impossibile riuscirci questo è il trucco rimani a vita nel programma lavora per il debito non c'è altra scelta no una c'è combattere guarda ti faccio vedere cosa ha fatto la sel mentre tu dormivi forse allora capirai benvenuto a new york versione 2.0 cosa hanno fatto la città ha una traccia energetica ma perché e la sel assorbe energia dalla tecnologia aliena la rete energetica mondiale viene alimentata da una sola macchina chef nel dom è troppo semplice e invece sì niente energia niente sel ed è fatta no il cefalfa mi ha mostrato una visione non è la prima volta deve pur esserci un collegamento profet gli alieni sono andati li hai distrutti tu stesso è rimasto solo qualche superstite no c'è dell'altro ascolta mentre tu davi la caccia a un super alieno immaginario la sel pensava a conquistare il mondo ci serve che torni qui e subito capo abbiamo bisogno di te per fermare la sel non esiste solo la tua rivoluzione io ho visto la sel sta giocando con un potere che nemmeno immagina qualunque cosa stiano facendo sarà la fine del mondo dobbiamo fermarli cazzo se li fermiamo su andiamo grazie